200 moto da tutta Italia eppure da oltre confine si sono date appuntamento per tre giorni nel paddock pesarese della Palla di Pomodoro per altrettante giornate di Rally delle Marche. Un tour su due ruote alla scoperta dei più accattivanti itinerari moto turistici dell'entroterra che al terzo anno conferma la sua formula vincente. Le telecamere di Rossini TV venerdì pomeriggio si sono accese al raduno preparatorio alla partenza del sabato mattina. Il Rally delle Marche è una passeggiata turistica che ha l'obiettivo di promuovere il nostro bellissimo territorio delle Marche e della provincia di Pesaro. Non è una manifestazione competitiva ma è appunto una manifestazione che ha l'obiettivo di portare qui nella nostra provincia turisti in moto tutta Italia e quest'anno per la prima volta anche dall'estero. Partecipiamo a questo evento perché innanzitutto sono amici con Alessandro con tutto il club Riding Marche si sta un gran bene si mangia bene collaboriamo anche perché neanche noi abbiamo il motoclub in Abruzzo quindi ci veniamo con tanto piacere si sta bene in compagnia loro i giri sono belli le tracce sono belle quindi ci veniamo volentieri. Noi veniamo da Chieti siamo un motoclub dell'Abruzzo veniamo qua da anni e ci siamo trovati bene con l'organizzazione e torniamo ogni volta che possiamo. Oltre a questo evento veniamo anche quello invernale siamo venuti quest'inverno e ci troviamo bene sia col posto che con la gente. Si effettuerà un percorso individuale cioè i piloti non partono in gruppo ma seguono il percorso tramite il loro GPS in maniera individuale e il percorso si inoltre all'interno della nostra provincia. La nostra partnership con il Rally delle Marche è assodata siamo partner per il terzo anno consecutivo abbiamo una squadra di ragazzi che parteciperà al rally ormai con Alessandro siamo in ottimi rapporti tant'è che ci fa esporre le nostre moto e speriamo appunto che questa partnership continui anche gli anni prossimi. Siamo venuti qua a Pesaro perché intanto è una città meravigliosa è piena di appassionati ormai il mondo dell'adventuring e dei giri amatoriali in fuoristrada sta prendendo sempre più piede è il nostro ambiente realizziamo parti speciali dedicate alle moto da offroad e quindi quale evento migliore per venire a mostrare le nostre creazioni. Questo è il terzo anno che partecipiamo il Rally delle Marche è un evento che Alessandro Damburini ha organizzato già tre anni fa il terzo anno consecutivo che partecipiamo ci abbiamo creduto dall'inizio è un rally in cui è necessario avere le scarpe giuste per poter partecipare ed ecco il motivo per il quale da specialisti preferiamo sponsorizzare questi tipi di rally e essere presenti per parlare direttamente con il motociclista e suggerirgli cosa montare. Volevo ringraziare il comune di Pesaro, la provincia di Pesaro e la regione Marche per aver patrocinato la manifestazione e gli sponsor alla mia sinistra che hanno creduto in questo evento partecipando in maniera attiva e mettendo molti premi in palio.